La Toscana ricorda la festa della liberazione dal nazifascismo perché quello che è accaduto può tornare e per questo non bisogna mai abbassare la guardia. Questo è il messaggio lanciato nel giorno del 76esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, lanciato da Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, dove furono trucidate 560 persone tra donne, anziani e bambini. Qui sul Sacrario, un luogo di silenzio e di memoria, si è tenuta la cerimonia senza pubblico per le misure anti-covid, ma in diretta social, alla quale ha partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, insieme al Sindaco di Stazzema Morizio Verona, il Presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna Enrico Pieri, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Dopo la deposizione della Corona, l'intervento del Presidente Gianni, il quale ha voluto ricordare la strage avvenuta a Sant'Anna di Stazzema, una tra le più efferate della Seconda Guerra Mondiale, una ferita che non potrà mai essere cancellata. Ma la ricorrenza del 25 aprile quest'anno vuole essere anche un punto di ripartenza e di speranza. La speranza di quell'Italia che 76 anni fa trovò la strada per costruire un'assemblea costituente, darsi una Costituzione che è un riferimento nel mondo, ispirare la ricostruzione e la vita alla democrazia, alla libertà, alla giustizia sociale, alla solidarietà. Ecco che quell'Italia che trovava la sua alba nel 25 aprile del 1945, io mi auguro la trovi oggi nella prospettiva di un contrasto alla pandemia che ha ammietuto vittime, ha isolato le persone e che proprio da domani, ritornando in una zona gialla, speriamo possa rendere questa permanente per una prospettiva di ricostruzione e di annullamento del virus attraverso i vaccini, attraverso le condizioni climatiche, attraverso i comportamenti di ciascuno di noi. Tra i presenti è anche il presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri, scampato alla strage quando aveva solo 10 anni, nascosto nel sottoscala di casa, assistette al massacro di tutta la sua famiglia. I tedeschi fecero eruzione in tutte le case del paese, sulla montagna versiliese uccisero a colpi di mitragliatrice donne, anziani e bambini, dando poi fuoco ai corpi e alle case. Pieri perse i genitori, due sorelle, nonni, zii e cugini. Veramente dopo la tragedia di Sant'Anna noi non si poteva festeggiare il 25 aprile perché eravamo veramente demoralizzati di quello che era successo. Ci sono voluti parecchi anni per festeggiare veramente il 25 aprile. Però dobbiamo dire alle future generazioni e a tutti che da quel giorno abbiamo iniziato a migliorare per tutti. Se non c'è più guerra in Europa questo lo dobbiamo alle stragi di Sant'Anna, di Varzamotto, a quei 50 milioni di morti che sono state la seconda guerra mondiale per lasciarci 75 anni di pace e di benessere per tutti. Questo è perché oggi qui, venire qui al 25 aprile, qui all'ossario di Sant'Anna sul Colle di Cava è veramente una cosa importante per tutti. Nella diretta social lanciata sulle pagine Facebook del Parco Nazionale della Pace sono stati molti gli interventi dalla senatrice Lidiana Segre, il ministro Roberto Speranza, il presidente della Camera Roberto Fico. Come ha detto il presidente Mattarella, a Sant'Anna di Stazzema si trova una radice della Repubblica. Considero dunque molto importante che in un luogo così significativo per la memoria del nostro paese sia celebrato oggi l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Una ricorrenza che, non mi stancherò mai di ripeterlo, non può ridursi ad un mero omaggio rituale. La memoria è infatti un dovere per tutta la comunità nazionale, soprattutto a beneficio dei più giovani. 76 anni fa l'Italia usciva dall'orrore dell'occupazione nazifascista, delle leggi razziali, di un regime nemico della libertà. E fu grazie al sacrificio di tanti uomini e donne, molti giovanissimi, che ci fu garantito un orizzonte di libertà, eguaglianza e democrazia. Guardare a quei giorni, a quello che è accaduto e anche alla resistenza, alla battaglia e poi alla liberazione del 25 aprile, significa per me avere in testa soprattutto e prima di tutto i valori della nostra Costituzione. La Costituzione democratica, la Costituzione dei nostri padri, di chi ha combattuto per la libertà e per l'eguaglianza. Ed è una battaglia che non dobbiamo mai considerare come acquisita, mai considerare come definitiva. La Costituzione va difesa ogni giorno per il suo valore, per la sua forza. La senatrice a vita, Liliana Segre, superstite dell'olocausto e testimone della Shoah, con un messaggio ha voluto ricordare il biennio tragico del 44 e del 45, ma anche la finale vittoria delle forze antifasciste e l'apertura di una stagione nuova per l'Italia e per il mondo. E la città martire di Sant'Anna, detto Segre, è il luogo simbolo della tragedia del Novecento. Poi, dopo i messaggi video, anche le parole di alcuni defirmatari della proposta di legge antifascista, nata proprio a Stazzema, contro la propaganda fascista e nazista e che ha raccolto oltre 250 mila firme. È una bella idea, una bella legge, Maurizio Verona e il sindaco ci si è speso moltissimo, io la firmai fra i primi, naturalmente. Erano necessarie 50 mila firme e siamo già arrivati a 250 mila. È importante perché anche dagli aspetti simbolici si crea poi il negazionismo o si tende a sminuire quello che accadde. Si tende quasi a dimenticare che in Toscana 560 furono le persone inermi uccise a Stazzema, ma 4.500 furono quelle massacrate nell'arco di tre mesi, dal giugno al settembre del 1944, con episodi come questo e simboli che possano portare direttamente o indirettamente a rievocare fascismo e le filosofie che erano dietro al nazismo e all'autoritarismo di quel tempo. È qualcosa che dobbiamo contrastare con ogni mezzo. Una proposta di legge nata per respingere ogni possibile nuova forma di estremismo. Il fascismo va combattuto e mi auguro che questa proposta di legge non solo arrivi in Parlamento perché sicuramente ormai ci arriva, il 29 la consegnerò, consegnerò tutti i moduli, tutte le firme. Incontrerò il Presidente della Camera, Fico, mi ha dato appuntamento e chiederò a tanti parlamentari di sostenerla, di calendarizzarla e mi auguro che arrivi fino alla firma del Presidente della Repubblica. Un 25 aprile a Sant'Anna, paese martire, simbolo della tragedia che si consumò nella Seconda Guerra Mondiale per promuovere la memoria come dovere e per riaffermare i principi fondanti della Costituzione italiana. Questo lo ha ribadito anche l'assessore regionale all'istruzione e alla cultura della memoria Alessandra Nardini durante le celebrazioni del 25 aprile a Cascina. Questa è una data importante, importantissima per il nostro paese e quindi è con orgoglio che sono qui a Cascina questa mattina per celebrare la liberazione, per ricordare le tante donne e i tanti uomini che combatterono dalla parte giusta per poterci consegnare un paese libero, democratico, un paese dove valori come la lotta a tutte le forme di discriminazione, di violenza, di sopruso fossero principi capisaldi anche all'interno di quella che poi è stata ed è la nostra bellissima carta costituzionale. Il 25 aprile è una festa che deve essere di tutti, che deve essere condivisa. A Cascina negli ultimi quattro anni ci sono stati anche spunti di accenti dal revisionismo rispetto al valore invece che ha questa festa. È la data che avvia la ricostruzione dell'Italia e quindi tutti devono sentirsi essere coinvolti di valori condivisi da tutti gli italiani e che sono poi iscritti nella Costituzione. Nardini ha voluto ricordare il protocollo firmato nei giorni scorsi per portare la Costituzione sui banchi di scuola in Toscana per conoscerla meglio e approfondirne i valori che esprime dagli ideali di democrazia, libertà e solidarietà alle pare opportunità, l'inclusione sociale e il pluralismo culturale. Voglio ricordare che il nostro simbolo, il Pegasolato, fu il simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Un simbolo quindi importante che ci ricorda da dove veniamo e che ci ricorda soprattutto che quei valori di libertà, democrazia e di uguaglianza noi non dobbiamo mai smarrirli. Anche di fronte a riemergere di pericolosi rigurgiti nazifascisti che anche sotto altre spoglie, in maniera diversa però, rischiano di farci fare dei passi indietro. Noi questo non dobbiamo permetterlo. Per dirlo con il linguaggio della pandemia io credo che la memoria sia il miglior vaccino affinché davvero le giovani generazioni riescano a difendere, a proteggere e a promuovere quei valori che oggi celebriamo. A Cascina autorità e associazioni hanno deposto una corona in ricordo del sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia. Un 25 aprile che vuole riaffermare i principi fondanti della Costituzione italiana. Ma anche la memoria di ciò che è stato perché non accada più un monito per le future generazioni. Alle nuove generazioni dico che bisogna continuare ad essere partigiani. Cosa vuol dire essere partigiani oggi? Essere partigiani oggi vuol dire innanzitutto rifiutare ogni tipo di ricordo e di riferimento al fascismo e al nazismo e chiedere e conoscere l'applicazione della Costituzione. La nostra è una Costituzione antifascista che rifiuta la guerra e rifiuta gli odi in ogni sua forma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.